In primo piano L'Assemblea di Palazzo Lascaris nella seduta del 31 gennaio ha approvato quattro documenti all'unanimità. Due presentati dal presidente Valerio Cattaneo e sottoscritti da numerosi consiglieri. Il primo recepisce l'ordine del giorno approvato dalla conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome contro una eccessiva pressione fiscale sulle imprese agricole. Il secondo è a tutela dei lavoratori Servireil, ex vagolli. Quest'ultimo documento si riferisce in particolare a 63 lavoratori in Piemonte e 800 in tutta Italia licenziati in seguito alla soppressione dei treni notturni che collegano il sud al nord Italia. Nino Boetti, Partito Democratico, è invece il primo firmatario del documento a favore dei lavoratori che, terminato il periodo di mobilità, non possono recepire la pensione per via degli ultimi provvedimenti adottati dal governo Monti. Per tutelare e valorizzare il planetario di Pino Torinese è stato approvato l'ordine del giorno primo firmatario Giampiero Leo, Popolo della Libertà, che impegna il Presidente e la Giunta ad attivarsi affinché il planetario possa continuare a essere un importante luogo di conoscenza e stimolo per le generazioni future. Su questo documento sentiamo Giampiero Leo, Popolo della Libertà, e Gianna Pentenero, Partito Democratico. Il Consiglio regionale, votando all'unanimità un ordine del giorno per il sostegno al planetario, riconfermo una politica iniziata quando io ero assessore, proseguita col centro-sinistra e sostenuta oggi da Cota e dell'assessore Coppola, in favore di una struttura quasi unica in Italia, utilissima per la divulgazione scientifica, per la crescita culturale e per la centralità di Torino e il Piemonte come regione dello spazio. Abbiamo deciso di sostenere l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza perché crediamo che l'osservatorio astronomico del Piemonte sia una realtà importante per le nostre scuole ma anche per il mondo scientifico. Chiediamo all'assessore di essere più preciso rispetto a quello che può essere il futuro dell'osservatorio astronomico, non soltanto attraverso i giornali ma attraverso atti concreti, delibere o accordi che sanciscano davvero il futuro per l'osservatorio astronomico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.